Senza chiederle alcun giudizio sulle valutazioni di mister Pioli, sui ragazzi giovani in teoria futuri prima squadra che però militano spesso in primavera, parlo di Lofaso, parlo di Zecnini, parlo di Anissagi le chiedo, tecnicamente pronti ma forse ancora no caratterialmente per il salto? No, la Fiorentina comunque tra prima squadra e primavera ha dei giocatori che possono fare davvero qualcosa di buono quando sono venuti con noi dalla prima squadra hanno sempre avuto l'atteggiamento giusto e a me basta questo Alleggeriamo un attimo e andiamo un po' indietro perché un po' di amarcord non fa mai male mister, se non le dispiace le chiedo, dagli anni in cui giocava lei, non sono passati poi così tanti, 18-20, le parlo della Fiorentina quanto è cambiato il calcio non solo sotto il punto di vista del prototipo del calciatore medio ma anche sugli spalti, non che non siano calde le curve ma la tefoseria, l'atmosfera negli stadi si sente questo cambiamento? Lei lo vede? Ma io vedo comunque sempre tanta passione intorno alla squadra del cuore quindi ci sono state probabilmente a volte delle restrizioni dal punto di vista della burocrazia nell'introduzione di striscioni, di tamburi, di fumogeni, di coriandoli di tutto quello che ai miei tempi ci poteva essere però, ripeto, il calcio rimane poi sempre lo stesso i ragazzi che vivono questo momento, che sono in questo periodo devono sapere che fanno, a mio avviso, lo sport più bello del mondo fanno qualcosa che hanno sognato da bambino sognare è lecito ma i sogni possono anche diventare realtà se c'è un lavoro quotidiano, se c'è una voglia di sacrificarsi in certi periodi della vita dove non è facile e chi riuscirà a fare questo sicuramente potrà ambire a togliersi delle soddisfazioni nel calcio dei grandi Ha parlato di esempi positivi non posso esimermi da chiederle quali in quegli anni lì a Firenze di giocatori erano per lei gli esempi positivi non solo dentro al campo tra scenatori come Batistuta ma anche fuori, ovvero nello spogliatoio come leader Ma quando, se ripeto, in uno spogliatoio ci sono, secondo me, tanti esempi positivi nel senso che per arrivare a certi livelli devi avere la testa devi avere uno spirito di gruppo quindi ce ne sono tanti ora, citarne qualcuno farei uno sgarbo a qualcun altro anche perché, come hai detto te, sono passati pochi anni ma sono tanti perché vent'anni alla mia età si fa anche fatica a ricordarsi C'erano anche personalità, diciamo, molto particolari sui generis? Per citarne uno c'era Edmundo oppure Oliveria, se non sbaglio, che si fetturava i mignoli facendo il falco durante l'esultanza Eh sì, insomma, personaggi un po' bizzarri Sì, però, ripeto, anche lo stesso Edmundo che poteva sembrare dal di fuori un personaggio sopra le righe nascondeva secondo me nel suo carattere una sensibilità che pochi avevano quindi bastava provare ad entrare dentro di lui e avere la sensibilità di capire anche, insomma, quello che si è passato precedentemente per capire, insomma, a fondo la persona con cui hai a che fare Anche un grande presidente, perché comunque c'è Chigori, questa passione viscerale che aveva per la squadra Stratifoso Volevo chiederle, veniva percepita dai calciatori dentro lo spogliatorio la vicinanza del presidente? Ma io veniva percepita Senza, come dire, la sua voglia di stare vicino alla squadra, la sua voglia di essere vicini a noi la si percepiva Poi c'è chi lo fa di più, c'è chi lo fa di meno, però, insomma, penso che nel momento in cui c'è che il presidente sia sempre il primo tifoso della squadra dalla sua squadra, quindi sono persone che hanno sicuramente tante cose da fare, tanti pensieri, perché i responsabili di solito o i capi hanno tante responsabilità però fanno sempre comunque sentire in un modo, con la presenza o con l'assenza la loro voglia, il loro entusiasmo per far sì che la squadra lo avverta e che lo staff tecnico lo avverta e che tutti lo avvertano